Ciao sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere il tema gratuito per WooCommerce Sparkling nei video precedenti che trovi in parte suggeriti qua sopra e altri all'interno della mia playlist del mio canale stiamo facendo un po una panoramica di tutti quei temi gratuiti e con alcuni di loro poi con alcune funzionalità premio pagamento pronti per WooCommerce quindi per sono temi che sono l'ideale per lanciare magari nuovi e-commerce o semplicemente se abbiamo già la nostra attività online se abbiamo già il nostro sito online grazie a questi temi abbiamo la possibilità di diciamo upgradare col supporto di WooCommerce naturalmente e questi temi che stiamo vedendo di quindi aumentare e portare il nostro sito a un vero e proprio e-commerce grazie appunto a questi temi nel video di oggi andiamo a vedere questo tema Sparkling che ha una grafica molto minimale ma molto 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 accurata per quanto riguarda i contenuti direi a questo punto di non perdere altro tempo e di andare a vedere questo tema direttamente dalla directory ufficiale di wordpress troviamo Sparkling tema appunto in versione gratuita con appunto un numero discreto di installazioni attive quindi un tema molto molto utilizzato ben supportato ed aggiornato sembra anche essere particolarmente gradito dagli utenti e andiamo quindi a questo punto direttamente a quella che alla pagina dello sviluppatore cioè color lib comunque abbiamo già visto altri temi di questa azienda gratuiti sempre molto molto ben fatti a prima vista andremo a vedere tra poco la demo questo questo tema sembra un tema improntato al solo utilizzo del blog ma vedremo che comunque è completamente compatibile con WooCommerce e quindi abbiamo la possibilità di appunto costruire partendo dal nostro tema un vero e proprio e-commerce abbiamo un po' di future qua elencate che sono il fatto che questo tema è sviluppato in maniera responsive quindi abbiamo già detto anche questo in altri video oramai la navigazione dei siti web è quasi totalmente spostata da quello che è il desktop a dispositivi di smartphone e tablet e negli ultimi anni stessa cosa sta accadendo per quanto riguarda gli e-commerce quindi sempre molti sempre più acquisti sempre di più spesso vengono anche effettuati direttamente da dispositivi appunto mobili piuttosto che da desktop e quindi da pc fissi come una volta abbiamo il supporto retina e ovviamente il tema è utilizzabile personalizzabile grazie alle molteplici opzioni presenti sul tema option abbiamo uno slider che vediamo tra poco di introduzione color libre vanta un sistema di supporto veramente molto rapido e veloce e utile a risolvere tutti i problemi del caso abbiamo l'infinite scroll quindi per caricare parti e porzioni della pagina man mano che l'utente scrolla la pagina questo ci consente di avere comunque un sito più leggero e più fruibile per quanto riguarda i nostri utenti abbiamo una vasta comunque integrazione con diverse tipologie di plugin troviamo infatti plugin di terze parti che si integrano benissimo con questo tema sparkling contact form 7 wordpress o plugin jetpack v3 total cash easy bootstrap e molti altri abbiamo già anticipato che naturalmente questo è un tema che è facilmente trasformabile in un e commerce questo grazie all'utilizzo di woocommerce e quindi possiamo costruire il nostro e commerce partendo da questo tema gratuito e da e commerce in maniera gratuita come abbiamo già detto il questo tema e molte altri temi di color libre sono pronti per essere tradotti in altri linguaggi quindi qualora volessimo internazionalizzare anche il nostro e commerce e pensare di avere un sito multilingua ecco che questo tema fa al caso nostro abbiamo le font anson per mostrare appunto immagini e concini e quant'altro abbiamo infinite possibilità di colori di opzioni di colore abbiamo la palette di colori quindi possiamo scegliere i nostri colori che più ci aggrada e abbiamo infine una documentazione che andiamo un attimo a vedere molto molto rapidamente prima di passare alla demo abbiamo questa è la tabella dei contenuti della della documentazione abbiamo come installare il tema come installare il tema manualmente utilizzando l'ftp questo abbiamo anche dei video presenti sul mio canale che spiega come fare come andare a personalizzare il menu abbiamo questo video molto molto pratico da visualizzare abbiamo come creare il menu ad avanzato quindi come creare dei divider poi vedremo tra poco nella demo cosa è possibile come utilizzare invece delle icone appunto di click icon da impostare sempre nel menu vedremo anche questo come creare una voce di menu che abbia un drop down quindi un sottomenu di fatto come disabilitare alcuni link quindi visualizzare soltanto una voce ma che non sia cliccabile come utilizzare invece font anson abbiamo visto che sono supportate e come poterli inserire quindi anche nelle voci di menu come andare a personalizzare il background come cambiare l'immagine e il logo quindi l'immagine di leader abbiamo anche dei video su come farlo come andare a personalizzare quello che è il nostro slider che andremo a vedere tra poco in apertura del nostro sito in home page qua abbiamo come utilizzare appunto il famoso customize quindi di fatto il tema option tutte le opzioni presenti per questo tema le troveremo dentro apparence customize e dentro sparkling option come disabilitare i commenti per le pagine come utilizzare e cambiare eventualmente le dimensioni delle immagini anche se è raccomandato impostare quello che si usa nella demo come creare una pagina di blog quindi come creare diciamo quello che è l'archivio per esempio abbiamo un altro interessante tutorial di come tradurre il tema quindi come abbiamo detto per quanto riguarda le voci di menu come creare delle gallerie e come cambiare il copyright nel footer abbiamo anche una call to action che possiamo utilizzare quindi possiamo anche personalizzare la call to action e utilizzare anche dei widget anche tra quelli personalizzati come creare delle categorie da mostrare sempre nei widget come usare widget social come utilizzare le icone dei social nei widget come costruite come utilizzare l'area widget e fondamentalmente abbiamo terminato quella che è la documentazione passiamo quindi a quella che è la demo clicchiamo quindi sulla demo e apriamo la demo come possiamo vedere abbiamo un bellissimo slider in apertura che è quello di cui abbiamo visto prima la possibilità quindi poi di personalizzarlo abbiamo anche un titolo un tasto da poter mostrare e le immagini da poter scegliere come dicevo prima qui abbiamo anche una call to action questo di primo impatto potrebbe sembrare un classico blog infatti qua abbiamo gli articoli classici andiamo a vedere magari un articolo con all'interno una galleria questo è un articolo classico per esempio però possiamo anche farci appunto un'idea abbiamo poi però svariate svariate future come abbiamo già visto poco fa tra cui le andiamo a vedere qua abbiamo il nostro sidebar dove possiamo appunto personalizzare le icone social come abbiamo visto e quant'altro abbiamo il menu come abbiamo visto prima ecco qua l'esempio di quello che abbiamo visto nella documentazione abbiamo la possibilità di utilizzare delle icone per esempio per mostrare il menu abbiamo la possibilità di inserire dei separator e quindi possiamo andare a costruire quello che è il nostro menu totalmente personalizzato non solo abbiamo anche la parte shop come abbiamo anticipato prima quindi integrandoci con WooCommerce possiamo costruire il nostro e-commerce dove possiamo andare a caricare ulteriori prodotti andiamo a vedere un prodotto al suo interno con visualizzazione piuttosto classica con appunto il titolo, le recensioni, il prezzo, la descrizione lo aggiunge al carrello abbiamo sotto naturalmente trattandosi di una galleria la tab con la descrizione e con le recensioni e i prodotti correlati come potete vedere il prodotto viene mostrato in un layout che comunque occupa l'intera pagina senza widget laterali e quant'altro quindi c'è pieno spazio al contenuto abbiamo fatto pieno spazio al prodotto andiamo un attimo ad aggiungere al carrello il prodotto in modo che possiamo anche vedere quello che è il carrello anche il carrello occupa l'intera pagina come possiamo vedere e quindi abbiamo un e-commerce totalmente integrato all'interno di questo tema sparkling come abbiamo visto prima abbiamo inoltre la possibilità anche di utilizzare degli shortcode quindi per andare ulteriormente a personalizzare quello che è il nostro tema possiamo usare shortcode per gli accordion per mostrare delle tab per creare delle liste diciamo con delle future dei servizi shortcode per i bottoni shortcode per quelle che sono le notifiche o gli alert che vogliamo mostrare la suddivisione in colonne la suddivisione la diciamo la possibilità di creare una tabella utilizzare i tooltip quindi solo al passaggio con l'over abbiamo i tooltip possiamo usare delle icone per mostrare il titolo in determinate sezioni possiamo creare un pannellino usare dei pop over quindi questi al click funzionano non all'over del mouse dei bottoni con drop down per esempio quindi che possono servire magari a scrollare o a mostrare delle sotto informazioni delle label quindi delle piccole parti di test da poter mostrare vicino altre sezioni del nostro sito un altro box immagini responsive immagini di effetto progress bar animate i services e quant'altro quindi abbiamo davvero anche la possibilità di andare a personalizzare totalmente il nostro tema qui abbiamo una galleria come avevamo già visto prima all'interno di un articolo qui possiamo creare anche un'intera pagina galleria e quindi direi che più o meno abbiamo fatto un'intera panoramica di quello che è questo sito apparentemente semplice questo tema apparentemente semplice ma davvero che ci consente di costruire un vero e proprio e-commerce e anche perché no magari utilizzarlo anche come blog per importare ulteriori visite al nostro sito bene direi che per quanto riguarda il tema sparkling per oggi è tutto bene mi auguro che tu abbia trovato utile questo video se comunque hai dei dubbi o hai delle domande lasciamelo scritto qua sotto nei commenti in modo tale che posso darti la mano per quanto possibile se ancora stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo wordpress temi, plugin, e-commerce, elemento e spulciando all'interno del mio canale non hai trovato l'approfondimento che stavi cercando lasciamolo anche questo scritto qua sotto così che magari io posso trovare qualche altro nuovo spunto qualche altra nuova idea per qualche altro video di informazione proprio come quello che hai visto adesso in ogni caso comunque se questo video ti è piaciuto metti mi piace attiva la campanella qua sotto e segui il mio prossimo video ciao